Superstrada di Malpensa, chiusa per un incidente che ha dell'incredibile, un camion si schianta contro la vasca dell'antincendio, spargendo litri d'acqua, olio e carburante, pompieri al lavoro per ore. Compie 25 anni, la scuola dell'ospedale del Ponte, tra le prime in Italia, ha saputo tenere aggiornati piccoli ricoverati, garantendo un solido legame con la normalità tra i presenti un ex paziente e un ex maestra. La pet therapy è un sistema di cura collaudato, complesso, quanto efficace. Vi raccontiamo la grande giornata che la provvidenza di Buster Sizio ha dedicato al tema, con operatori, associazioni, amici a quattro zampe. Un mese e mezzo di iniziative, 35 eventi, ospiti di rilievo come Pupi Avati, Laura Morante, Davide Vandesfroos, Guido Meda, torna il premio Chiara, ma il futuro è tutto da scrivere. Nella pagina sportiva, la prossima giornata di eccellenza, il focus sulla propatra e poi mondo galoppo con la dinastia Grizzetti. Un saluto a voi tutti e bentrovati. Uno spettacolare incidente si è verificato sulla statale di Malpensa ieri sera, tardi, erano già le 11 passate, quando un camion è uscito di strada e si è andato a schiantare contro un muro laterale. Nell'urto a lesionarsi è stata la vasca per l'antincendio che serve a sicurezza dei sottopassi. Il risultato, litri e litri d'acqua sparsi sull'asfalto insieme all'olio e al carburante persi dal mezzo pesante. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi per prestare aiuto al ferito, ma anche per rimuovere tutto questo disastro. La sventurata 336 è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, quindi fino a tarda notte. Adesso invece una bella notizia, un servizio che vale la pena mettere in apertura di Tg, cioè il compleanno della scuola in ospedale. Forse non tutti sanno che Varese fu tra le prime realtà in Italia a inaugurare un percorso didattico all'interno della pediatria del Filippo Del Ponte. Oggi appunto il venticinquesimo compleanno alla presenza di ex maestre ed ex pazienti. Se è vero che la completa guarigione di un malato non dipende unicamente dalla componente clinica e farmacologica, ma anche da quella emotiva e psicologica, la scuola in ospedale inaugurata al Del Ponte di Varese nel 1994 rappresenta un caposaldo della cultura socio-assistenziale. La scuola in ospedale ci è molto cara e quindi ci faceva piacere iniziare l'anno qua. E siccome all'inizio di qualunque grande storia c'è un piccolo gruppo di persone lungimiranti, vale la pena citare gli artefici delle lezioni in pediatria. L'allora provveditore Giuseppe Solerte, la ex preside Margherita Giromini, la maestra Carla Vedani, la quale oggi ricorda i primi rudimentali supporti tecnologici al servizio degli alunni. Il primo computer è stato un Commodore 64 che io trasportavo nelle camere quando avevo i bambini che non potevano venire in classe. Penso che sia cambiato molto. Da quei giorni di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia. La scuola del Ponte è cresciuta non solo in termini di percorsi. Dalla sola primaria si è estesa alla secondaria di primo grado e ad una sezione delle superiori, ma anche in termini di organici. Grazie all'arrivo di due insegnanti, Margherita Buongiorno e Cristofaro Imperatore. Sì, effettivamente si è evoluta la scuola in ospedale sia per numeri di degenti sia per tipologia di frequenza. Quindi ciò costringe proprio la scuola ad essere presente con piacere per supportare il cammino di questi ragazzi che si assentano per varie patologie. Siamo più evoluti anche dal punto di vista tecnologico in quanto abbiamo computer dotati di office, tablet per poter supportare le attività anche a letto. Dipendiamo anche dalla scuola Polo di Milano che segue tutte le sezioni scolastiche ospedaliere della Lombardia per ottimizzare i percorsi scolastici e didattici di ciascun alunno che capiti in ospedale. Per un bambino costretto a vivere un periodo da paziente, la scuola rappresenta non solo la continuità didattica, ma anche e soprattutto il solido filo che lo tiene legato alla normalità, alla realtà di salute, gioco e socialità, cui spera di tornare al più presto. È fondamentale condividere anche le sue sofferenze, le sue difficoltà. Nel momento in cui hai sfondato questa porta si riesce poi ad entrare e ad insegnare, a fare quello che comunque è importante per loro, seguire, continuare a seguire il percorso scolastico e continuare a seguirlo nel migliore dei modi. Ecco, noi ci proviamo. Fondamentale il coordinamento garantito dai singoli istituti, dall'ufficio scolastico e dalla direzione ospedaliera. Sono veramente orgoglioso di essere qui oggi per festeggiare i 25 anni di un percorso importante che ha visto proprio all'inizio degli anni 90 più soggetti, l'allora provveditore, i dirigenti scolastici che allora si chiamavano presti di capo di istituto, l'ospedale chiaramente, le associazioni di volontariato, mettere in piedi una realtà che dopo 25 anni è ancora solida, importante e che dà un servizio veramente fondamentale agli alunni e alle famiglie. A margine della cerimonia un piacevole fuori programma, quello di Federica, che agli albori della scuola fu paziente dell'ospedale e alunna di Carla Vedani. Ho frequentato per periodi più o meno lunghi e ho trovato un grosso appoggio nella maestra Carla e in tutta la struttura. Avere un appoggio che ti fa distrarre dal motivo per cui sei in ospedale è molto importante, è molto bello e penso che anche da genitori vedere il figlio fare cose normali, abituali aiuti. Sicuramente mi ricordo tanti lavoretti nel periodo in Natale abbiamo addobbato tutta quella parete dell'ospedale e poi mi ricordo anche che con la maestra si parlava anche di cose serie, domande importanti che magari un adulto non veniva a farti, ma in questa situazione era anche bello, ti sentivi importante e grande fare questi discorsi. E sempre di salute parliamo, tornando alla provvidenza di Bustorsizio dove ieri è stato affrontato a 360 gradi il tema della pet therapy, l'assistenza di persone malate o disabili con l'aiuto di animali, nella fattispecie cani, è infatti stata collaudata ed è diventata di fatto uno strumento di cura assolutamente efficace e sempre più diffuso, di cui ieri abbiamo anche capito qualche segreto in più. Il servizio. Partita in punta di zampe oltre mezzo secolo fa, la pet therapy è entrata solo di recente nella quotidianità socioassistenziale, manifestando da subito i benefici emotivi, comportamentali e cognitivi scaturiti dall'interazione tra uomo e animale. Prima quando c'era un malato in casa c'erano soltanto parole di conforto, invece adesso c'è qualcosa di più. In Provvidenza, casa degli anziani Bustocchi, questa collaudata e sempre più reticolata attività, che di recente ha portato i cani accanto al letto di pazienti infermi, sollecitandone una reattività che sembrava assopita, si declina in una serie di servizi che ruotano intorno a professionalità capaci di fare sintesi e mettersi in rete, anche con realtà esterne ma alleate come la farmacia oncologica Bossi e il progetto Mai Paura. Il momento di comunione è proprio quello di far stare bene le persone, in un momento di difficoltà che può essere una patologia oncologica, un momento della vita che speriamo di poter affrontare tutti e cioè l'anzianità, una particolare disabilità che può rendere la nostra vita difficile. Ecco, quello che noi vogliamo fare insieme a tutte queste persone è far stare meglio le persone che hanno un problema. Fondamentale, si diceva, la collaborazione tra diverse figure tecniche, a cominciare da chi dei cani, si occupa tutti i giorni. Operatori, educatori che nell'incontro presentato dal direttore Trama e introdotto dal presidente Gobbi hanno ben illustrato gli elementi peculiari della pet therapy, partendo da un presupposto dirimente e cioè che la vicinanza degli animali ci fa stare meglio, indipendentemente dalle nostre condizioni di salute. Per quello che è la mia esperienza ho sempre trovato dai bambini agli adulti molto coinvolgimento perché i cani sono così, sono esseri speciali e ci accompagnano sempre nelle nostre vite di tutti i giorni e lo sappiamo benissimo anche, lo sanno benissimo tutti i proprietari di cani che non per forza fanno pet therapy, però ogni cane a modo suo fa pet therapy ogni giorno in tutte le nostre case. Ed è proprio da questa consapevolezza che prendono avvio le pratiche più complesse, mesi di formazione, fatica, pazienza che portano a risultati sballorditivi, come dimostra il video di Stefano Macina, operatore che ha simulato il micidiale mix di solitudine e disabilità e che vede lo splendido quattro zampe nelle vesti di impeccabile e premuroso maggiordomo. Una persona affetta da un disturbo del comportamento, quale l'aggressività, quale l'agitazione, incontrando un cane ad esempio, quindi in questo caso i cani, un amico a quattro zampe, può attraverso la vicinanza, attraverso la relazione che si staura, avere una sensazione di tranquillità, di benessere e di serenità e quindi placare questo disturbo del comportamento. E affinché la pet therapy non sembri limitata agli anziani o ai malati di Alzheimer, ecco l'esempio di Riccardo, giovane affetto da autismo, letteralmente risorto grazie all'amicizia con Sasha. Lui praticamente aveva paura dei cani, chiuso in casa, non usciva, aveva questa fobia dei cani e con Sasha, il binomio fondamentale, siamo riusciti a farlo uscire, farlo giocare con Sasha, farlo interagire con altre persone e vivere l'esperienza del lavoro con un cane a seguito. E adesso invece parliamo di politica, lo facciamo con un collega Alessandro Montanari, giornalista autore televisivo, dichiaratamente sovranista. Un anno fa il suo libro Euroinomani, un atto d'accusa alla retorica europeista, ha fatto molto discutere e a un anno di distanza siamo tornati a parlarne insieme all'autore, anche alla luce di questa incandescente estate che ha portato al conte bis. Un anno fa Alessandro Montanari presentava Euroinomani, duro jaccusa alla cultura europeista di stampo teutonico, nonché inno sovranista che accoglieva con favore l'avvento del governo giallo-verde. 12 mesi dopo, eccoci di nuovo insieme al giornalista, scrittore, autore televisivo, deluso dall'estate politicamente più inquieta della storia recente. Questo governo nel quale ci sono i 5 stelle è radicalmente diverso dal governo di prima, anche se rimane Conte che non è più l'avvocato degli italiani, ma è l'avvocato o di se stesso o di qualcosa di diverso e purtroppo ha un'ispirazione chiaramente europeista, laddove con questo io non voglio dare un'accezione negativa, ma mi sembra un europeismo abbastanza acritico perché i problemi dell'Euro sono rimasti tali quali e nessuno li ha sollevati. È anche vero però che se Salvini volesse vedere il bicchiere mezzo pieno rispetto a ciò che gli è capitato potrebbe anche dire che il suo governo è terminato prima di diventare impopolare, chi governa dopo un po' il consenso lo perde perché deve per forza prendere decisioni difficili. Diciamo che in quella trappola non è caduto, il consenso lo ha mantenuto e forse non si è neanche giocato fino in fondo le carte di quello scardinamento europeo che aveva promesso e che forse non ha neanche avuto il tempo materiale di fare. Ma io direi che se una cosa questa situazione l'ha chiarita, ha chiarito chi e che cosa era percepito come un pericolo, un avversario dall'Unione Europea, dall'Euroburocrazia e da quelle che io chiamo Euroinomani. Era Salvini quello che era percepito come un pericolo, era Salvini con i suoi economisti alla Borghi, Bagnai, insomma queste componenti che sembravano un po' più radicate e un po' più convinte di quelle dei 5 Stelle perché ricordiamoci che i 5 Stelle sono partiti nella scorsa campagna della politica, prima del 4 marzo, addirittura a parlare di referendum per l'uscita dall'Euro, nel quale poi suggerivano in un modo abbastanza ridicolo di votare per rimanere, quindi non si capisce perché uno deve fare un referendum per uscire e suggerire poi di rimanere, lascia le cose come stanno, però volevano dare questa rappresentazione del movimento di questo tipo. Mentre nella campagna elettorale per le europee il signor ministro degli esteri Di Maio che adesso forse entrerà nel gruppo di Macron andava a cercare di fare un'alleanza con i gile gialli, tra l'altro con le componenti un po' più violente e radicali dei gile gialli. Io questa schizofrenia non la capisco. Pagina culturale, il premio Chiara torna a scaldare i motori, si parte già nei prossimi giorni un mese e mezzo di iniziative, 35 eventi, molti ospiti noti. I dettagli. Il premio regista Pupiavati, la serata motociclistica con Guido Meda, il ritorno di Van des Froos nelle vesti di scrittore, le affabulazioni melodiche di Angelo Branduardi, l'analisi pittorica di Flavio Caroli, l'arte fotografica di Letizia Battaglia. Il premio Chiara torna a far parlare di sé con un mese e mezzo di eventi, un calendario ricco di spunti e di grandi nomi e l'ultima volata delle tre finaliste in concorso. Ben 35 appuntamenti che sono scaglionati da settembre, ottobre e anche le parole della musica a Branduardi a novembre. Per cui avremo premio Chiara la carriera Pupiavati, avremo Branduardi, le parole della musica a novembre e in mezzo avremo Van des Froos riguardo al suo libro e il suo volume. Le tre finaliste per cui conosceremo sia Beatrice Masini che Laura Morante e Marta Morazzoni fanno un giro da Lugano, Gallarate e Varese dove ci sarà lo spoglio in diretta delle schede. Alla presentazione un nutrito gruppo di partecipanti, esponenti delle istituzioni e del privato, il presidente della provincia Antonelli, vertici di Camera di Commercio e Fondazione Comunitaria, all'ufficio scolastico i giovani artefici dell'Insubra Language Week, sostenitori di recente conquista come Giovanni Pepe che tiene a sottolineare la propria presenza in qualità di amico del premio e non di questore, amministratori comunali di Varese, Luino, Saronno, Tardate, Gavirate e Azzate, ma anche l'azienda Poretti, protagonista del riconoscimento all'industria di quest'anno. Il programma completo e tutte le sue location, compresa la triennale di Milano, sono consultabili su premiocchiara.it. Insomma, riassumendo, quest'anno vedremo al premio Chiara personaggi come Angelo Branduardi e Flavio Caroli, Davide Vandesfros, Pupi Avati e poi tanti altri esponenti nel mondo delle arti e della cultura. Non è facile riunirli in un unico festival, un festival che dopo 30 anni rischia di essere dato per scontato, così non è. Dietro ad ogni evento, dietro ad ogni iniziativa, dietro ad ogni incontro come quello che si sta concludendo qui a Villa Recalcati, c'è un intero anno di fatica, di contatti, di relazioni e naturalmente anche di costi. Il premio Chiara va sostenuto, va aiutato, va supportato, va rilanciato e tenuto in vita, altrimenti rischia di estinguersi e sulla coscienza lo avremo tutti, perché chi crede nella cultura deve credere nel premio Chiara. Sarà un fine settimana davvero ricco di iniziative quello che sta per incominciare. Tra le tante vi segnaliamo il villaggio Cri. La Croce Rossa infatti scende in campo nel centro di Varense con banchetti informativi, visite gratuite e altre curiosità per conoscere più da vicino il mondo della Croce Rossa e i tanti servizi offerti. Si parte domani in piazza del Garibaldino alle 11 e mezza e si prosegue poi tutto il giorno. Adesso invece a Bustarsizio perché ieri si è svolta l'ultima serata a negozi aperti. Inizia l'autunno e questa iniziativa ovviamente cede il passo alla stagione più fredda, però forte di un indiscutibile successo. Da ormai oltre 25 anni lo shopping by night scandisce l'inizio e la fine dell'estate dei cittadini di Bustarsizio. Un po' come erano una volta la prima e l'ultima messa in onda del Festival Bar e della pubblicità del famoso cornetto gelato. Così con la abbassarsi delle saracinesche, nell'ultimo giovedì sera in centro caratterizzato dai negozi aperti, la città torna in modalità autunno-inverno con il salotto buono che di sera appare deserto. Quest'anno la data finale delle iniziative in piazza tra le vetrine illuminate è coincisa con quella dell'inizio della scuola, il che nonostante la temperatura decisamente piacevole ha di certo ridotto il numero di partecipanti che di solito sono migliaia e migliaia. Ciò nonostante, Luca Torno, organizzatore di Meet in Busto, si dice soddisfatto e commenta. Certo, il rinvio di una settimana per mal tempo non ci ha aiutati, ma sto ricevendo molti complimenti. Gli stand allestiti nella rinnovata piazza Vittorio Emanuele II hanno comunque venduto e le oltre 300 cotolette per l'edizione limitata della Bustocca sono andate a Ruba. Ciò, sebbene in contemporanea la performance di Viola Valentino, ci fossero altre iniziative canore e danzanti nelle vicine piazza San Giovanni e Santa Maria, per non parlare del via di Busto Folk al Museo del Tessile. Dopodiché le ultime feste all'aperto e alcune sagre scorreranno come titoli di coda di quest'estate che sta finendo. E a Somma Lombardo invece torna domani la Fiera del Castello. Torna la tanto attesa Fiera del Castello in programma a Somma Lombardo il 14 e il 15 settembre, organizzata come sempre dalla Proloco Cittadina, con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Il 15 settembre, come ormai da più di 30 anni succede, la nostra piazza, la via del Sempione e tutto il centro storico si riempie e si anima di attività, di bancarelle, di giochi, colori, danze, tutto quanto cerchiamo di fare per creare una domenica bellissima. Come già l'anno scorso iniziamo al sabato sera aspettando la fiera, ma la fiera quest'anno l'aspettiamo con la seconda edizione di stravaganti, vale a dire la seconda edizione di artisti di strada che quest'anno grazie al contributo dell'amministrazione comunale possiamo realizzare molto serenamente. Quindi sabato pomeriggio dalle 16 in poi vi aspettiamo comunque nelle nostre piazze dove avremo tutta una serie di spettacoli, almeno 7-8 spettacoli differenti da poter gustare e vivere e soprattutto partecipare insieme. Poi alla sera la Proloco, oltre alla musica, diciamo in un momento conviviale, propone l'hamburgeria, quindi hamburger per tutti i tipi, per tutti i gusti, anche vegani, anche chi non può mangiare la carne. Per cui vi aspettiamo numerosi, come sempre stato, sperando nel bel tempo, al 14 e al 15 di settembre, Soma Lombardo Centro Storico. Per questa prima parte è tutto, dopo le sigle una ricca pagina di sport con calcio e ippica, tra un istante. Grazie. 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 Grazie.